Coriandoli sotto il sole potrebbe essere questo lo slogan dello storico carnevale di Massafra giunto alla settantesima edizione. Si arricchisce questa volta di due eventi che si terranno i prossimi 3 a 9 giugno. I mastodontici carri allegorici frutto della maestria dei cartapestai massafresi sfileranno in corso Roma insieme con i gruppi mascherati. Alla conferenza stampa di presentazione oltre al sindaco Fabrizio IV c'erano l'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, il consigliere regionale Michele Mazzarano e l'assessore alla cultura del comune di Massafra Domenico Lasigna. Ospiti d'eccezione saranno Beppe Iodici, il 3 giugno Valentina Persia e il 9. Entrambi i corsi mascherati avranno inizio alle 19 dal piazzale dello Stadio Italia e arriveranno in piazza Vittorio Emanuele. C'è una coralità di intenti che vede impegnata la macchina amministrativa, tutta la squadra degli assessori e consiglieri ma soprattutto anche gli enti sovraordinati, la regione, il ministero che danno una mano anche sotto il profilo economico perché è una iniziativa che ha anche il suo costo. Ci permette di attrarre numerosi turisti internazionali che sono attratti non solo dalle manifestazioni che sono in corso, sono state in corso e saranno in corso ma anche la possibilità di visitare i laboratori di Cartapesta e di valorizzare questo artigianato artistico davvero nobile che è un orgoglio della nostra regione e della nostra comunità. Quest'anno un articolo alla legge di bilancio stanzia un milione di euro per i carnevali pugliesi, ce ne sono aggiunti altre manifestazioni lì dove si tiene il carnevale ma fondamentalmente questo significherà un maggiore contributo per i tre carnevali storici cioè quelli riconosciuti dal ministero dei beni culturali che sono Putignano, Massafra e Manfredonia.